Per prima cosa sgusciate un uovo in una terrina, aggiungete un pizzico di sale e 4 cucchiai di zucchero. 1, 2, 3, 4. Cominciate a mescolare. Aggiungete mezzo bicchiere di latte, male che va se lo richiede e dopo ne aggiungeremo un altro porco. Setacciate 8 cucchiai di farina insieme a mezzo cucchiaino di lievito a dolci. Aggiungete 2 cucchiai di marsala e mezza bustina di zucchero vanillato. Sto utilizzando questo. Mescolate per bene tutti gli ingredienti fino a diventare una bella pastella. Scaldate l'olio e nel frattempo immergete nella pastella le vostre mele che avrete affettato in precedenza e messe a irrolare con il limone. Quindi immergete. Uno per zappa. Lasciatele colorire e giratele. Dovranno essere dorate da entrambe le parti. Man mano li scoliamo su carta assorbente. Spolverizzate la superficie con nello zucchero a velo. Quindi gustate. e e e e e e e e E' un po' che è andato!